Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi, come promesso, vi faccio vedere tutte e due gli HeroQuest usciti, che sono esattamente la prima edizione che vedete qui davanti a cura di Milton Bradley e la nuova edizione, quella uscita quest'anno, a cura di Hasbro. Quindi l'edizione più nuova e l'edizione quella della nostra infanzia. Un gioco che per me è il padre, ma non solo, anche il più bello di tutti i Dungeon Crawl mai usciti, anche se ce n'è tanti ribelli nuovi, Descent, Assalto Imperiale, però questo proprio ha un gusto semplice, old school e veramente ci metti al tavolo chiunque, ma nel vero senso della parola, un mio grandissimo amico e anche spesso collaboratore sul canale ci ha fatto giocare il figlio a sei anni, ma senza nessun tipo di problema, perché è un gioco, HeroQuest, molto facile nelle meccaniche e ve li vado un po' a confrontare dopo la sigla. Innanzitutto, mi scuso se sentite il ventilatore, ma ragazzi, banale dirvelo, lo sapete, vivete in Italia come me, sono tipo un mese e mezzo che fa un caldo disumano e se lo spengo muoio. Partendo dalla prima versione che vedete qui davanti, ora poi vi vado a far vedere nel dettaglio cosa c'era all'interno, della Milton Bradley, vedete sicuramente lo stesso disegno che poi è stato riportato in quella nuova, ovviamente in quella nuova a chiave un pochino più moderno e a me sembra anche in chiave un pochino più zombie side, ve lo dico sincero, e da questa parte un tipo di disegno molto anni 80, che vi ricordate? I disegni anni 70-80 erano stupendi perché erano metà un disegno e metà veri attori. Vi ricordate le copertine di film? Che non erano magari una foto, una bella copertina locandina, ma tante volte erano o dei bei disegni o anche gli stessi personaggi dei giochi, tipo manuali di Dungeon & Dragons, cose del genere, c'era proprio sopra foto di veri e propri attori. Per quello che io mi ricordi, e lo dico onestamente, non mi ricordo il prezzo esatto di questo, però me lo regalarono per il mio compleanno, andavo sempre alle elementari. E il primo Hero Quest, ripeto ancora, se sbaglio scusatemi, ammetto, mi sembra che al tempo costasse entro massimo le 50.000 lire. Che uno dirà, magari le 50.000 lire negli anni 80-90 erano tante? No, non erano tante. Cioè, ai tempi delle lire non erano, cioè, non è che se era nel 28 che 50.000 lire era, non ci compravino a casa? No, era un prezzo giusto. Mentre questo di qua, dell'Asbro, costa 150 euro. Poi lo trovate anche a meno, magari 140-145 scontato, però il prezzo è quello lì. Mi corregge mia moglie che al tempo, quando è uscito in America, costava 30 dollari. Quindi in Italia forse poteva costare 35-40.000 lire. Vabbè, ma a parte questo. Vedete già la scatola che è la stessa, ma soprattutto una cosa che dà subito all'occhio è, poi vi vado a far vedere il contenuto, la scatola, la confezione molto più piccola di questa edizione, quella vecchia della Milton Bradley e dell'MB, che poi ha le stesse identiche cose di quest'altra. Identiche. L'unica differenza fra questa e questa è che all'interno di questa, ci sono le stesse miniature, tutto quanto uguale. Solo l'unica differenza è che la mobilia e i mobili, come vedete nella vecchissima edizione di HeroQuest, nella prima, era fatta una parte sopra in plastica, dura. Cioè, questa ragazzi è plastica, la tiri veramente nel muro, è il martello di torti, torna indietro, non si è fatta nemmeno un taglio, una scheggia. E sotto c'era una parte in cartoncino, anche abbastanza dura, perché ragazzi, c'ha 30 anni questo gioco, ormai lo possiamo dire, c'ha 30 anni, anche qualcosa di più, guardate com'è conservato. Ora magari, da chi l'ho comprato era maniacale, però i pezzi sono conservati veramente bene, come vedete anche il tavolino aveva una parte di cartoncino da incastrare in due parti di plastica, di qua hanno fatto tutto invece in plastica, che va bene, ci sta anche assolutamente, è una bella trovata. Quindi la prima cosa che dà nell'occhio e per cui richieda una scatola leggermente più grande è quella, perché quando qui mettevate le cose un po' messe nella scatola, andavano un po' a giro, un po' incasinate. Mentre qui ci sono anche gli inserti per rimetterle tutte quante a posto, cioè dentro c'è anche l'organizer suo, quindi una cosa in più, andate a rimettere tutti i pezzi a posto e non succede il classico casino da scatola di hero, questo dove la roba era tutta in giro. Però, quando l'andavate a defustellare la prima volta, il cartoncino era messo su un pezzo unico lungo, poi andavate voi a staccare i vari pezzi e a montare le figure. Quindi fondamentalmente, almeno prima di defustellare, ad aprire il gioco per la prima partita, c'era poco bisogno di scatola. Quindi una scatola più grande serviva perché all'interno ci sono anche, come detto, gli organizer. Come vi ho fatto vedere già l'altra volta, in fase di unboxing, c'è praticamente il suo organizer in plastica leggerissima e tutti quanti i pezzi separati. Queste sono le porte 3D del nuovo hero. Questa, come vedete, è un bel pezzo di plastica, dall'altro fatte anche bene, mi piace come l'hanno scolpita e tutto. e questa era la porta aperta del vecchio hero quest. Come vedete, non solo è leggermente più grande, però l'effetto, ecco, forse del vecchio hero quest, la cosa che mi ha sempre fatto schifo, ve lo dico senza mezzi termini, erano le porte. Le porte erano veramente orribili, quelle aperte, quelle chiuse erano un po' più carine, ma quelle aperte erano veramente orribili, mentre invece le porte di quello nuovo, bello, stanno proprio di classico arco, entrata di dungeon. E poi ci sono tutti quanti i mobili, anche qui per farvi un esempio, la libreria della nuova edizione, con la libreria della vecchia, che, oddio, sarà che questo era già dipinto, per quanto in cartoncino faceva, cioè, riesco più a calarmici nella parte, scusate, di formazione professionale, sono un dungeon master di giochi di ruolo, penso sia normale, per quanto è stato montato sotto sopra, però vedete tutti quanti i libri colorati, da quest'altra parte, fino a che non lo dipingi, e poi oltretutto c'è anche meno roba dentro, non lo so, boh, mi cicalo meno nella parte, e poi sopra c'erano teschetti e ratti, che ci sono anche nella nuova edizione, come vedete i topini qua su, da andare ad attaccare. Un'altra cosa, per farvi vedere un esempio, proprio lampante, tra la mobiglia di quella vecchia, e della nuova, mi viene in mente il camino, come vedete, e questo è quello del vecchio. Ora, pro e contro di tutti e due, ve le appoggio un attimino qui, pro e contro di tutti e due, quello nuovo, è fatto indubbiamente bene, guardate canzo, anche con specie di guerrieri qui elati, scusate me, caduto, qua su c'era la foto del re, o comunque di, non mi ricordo chi era qualcuno, comunque, a livello di ambientazione, e poi, soprattutto, come vedete, la base, mi garba più quella vecchia, guardate la base del camino, cioè qui i ceppi di legno sono messi dentro, mentre bruciano, qui invece, praticamente, vabbè, vuole anche il disegno che c'è sopra, mi piace più come erano adagiati, qua giù, per terra. Poi, mi sa proprio più, questo mi sa più di castello di Ravenloft, questo mi sa più, boh, di casa abbandonata, rustico, proprio dungeon, quindi, come vedete, alcune parti sono più belle, ma non vuol dire che, per forza, siano più belle, delle parti metà plastica, metà cartoncino dell'epoca, e le tombe, pressoché uguali, solo che questa nuova, si apre anche, quella vecchia, col pezzo di cartoncino sotto, no, però, come vedete, quella vecchia è più grande, cioè qui, il cavaliere morto sopra è piccolino, qui invece, addirittura più grande e definito, si vedono bene anche i capelli, sembra quasi un dormiente, un vampiro, qualcosa del genere, e se posso essere in quella vecchia, la figura è anche più definita di questa qui nuova, è lavorata veramente meglio, per quanto è una figura anni 80, il blocchetto, ovviamente questa è la versione inglese, delle schede dei personaggi da compilare, e questo accanto è quello vecchio, come vedete, quello nuovo è molto più pulito, organizzato, e anche divise meglio le varie sezioni, un po' meno incasinate, questo lo sa più di libro game, Jodever, lupo solitario, per farvi capire, però, ancora una volta, per me, lo stile è molto più bello di quello vecchio, è più sentito addirittura lo scudo, dove mettere l'immagine del personaggio, una lancia, da quest'altra parte qui, una labarda, cioè, un arazzo sotto, la possibilità di una pergamena, dove scrivere magari qualcosa, un motto, cioè, si sente molto più vissuto, quello vecchio, rispetto a quello nuovo, che sembra un puro adattamento, le carte, che come vedete, hanno sfondo tipo color pergamena, e i disegni ovviamente, per quanto stile anni 80 sono stati rifatti, e quelle vecchie, che invece avevano sfondo bianco, come potete vedere, noi il gioco, quello vecchio, ce l'abbiamo, l'abbiamo tra l'altro imbussato, perché siamo maniacali, però, ecco, forse fra i due, mi piace più la versione nuova, perché sanno più, proprio di vecchia pergamena, qui invece, questo sfondo bianco, non mi ha mai fatto impazzire, mettiamola così, rulebook, non mi ha mai fatto impazzire, perché non è che fosse al tempo, strapieno di contenuti, immagini, cioè, la lore era importante, anche all'epoca, sì, ci sono un po' di disegni, però non è che ci fosse tantissimo, un rulebook, normalissimo, mentre invece, quello nuovo, fatto molto meglio, ha colori, e le immagini all'interno, e i testi, sono molto, molto più chiari, però ovviamente, vabbè, ribadisco, lo stile, è completamente cambiato, e a me personalmente, piace molto più, quello anni 80, quest book del nuovo, che non ve lo vado ad aprire, perché è spoiler, veramente, perché le mappe poi, sono sempre quelle, non è che cambiano, siamo su Descent con l'app, e quello vecchio, il vecchio libro delle imprese, come le vedete qui accanto, questo fatto a striscia larga, quello nuovo, quello vecchio, invece, fatto, proprio al libro, delle imprese, di Nd, prima edizione, con un bel po' di lore, e testi, scritti a classica pergamena, alla Deck Arcane, di Diablo, e per finire, lo schermo, del Dungeon Master, che è questo qua, vi ho fatto vedere, in fase di unboxing, con dietro, scritte, tutte quante le cose, caratteristiche dei mostri, e altre cose in particolare, mentre invece, quello della vecchia edizione, è questo qua, che vedete, questo è quello, della vecchia edizione, ora ve li metto, ve li faccio vedere davanti, e dietro, un'altra volta, il riassunto, delle trappole, e delle regole principali, ma non ci sono, le tabelle dei mostri, quindi, almeno per me, per quanto, lo stile, di questo qui, che è quello vecchio, della Milton Bradley, mi piaccia di più, lo stile del disegno, di questo qua, ammetto, che quello della nuova edizione, è molto più utile, perché almeno, c'hai anche le tabelle, dei mostri, qua dietro, senza doverle andare, a cercare, magari sul manuale, le miniature, di quello nuovo, vi faccio vedere accanto, quelle vecchie, ah, ovviamente, vabbè, i dadi nuovi, e i dadi vecchi, sono dadi, fondamentalmente, chi se ne frega, cambia poco, sono belli tutte e due, non ho preferenze, e come vedete, le miniature, gli scheletri con la falce, e questi erano quelli, del tempo, della Milton Bradley, della GV, quelli vecchi, come vedete, tutte le miniature, sono più grandi ora, sono più grandi, di un centimetrino, rispetto a quelle, della, della vecchia edizione, forse leggermente meno, di un centimetrino, comunque, sono leggermente più grandi, anche meno più tozze, questo è uno scheletro, per farvi vedere un esempio, per farvelo vedere anche un pochino più da vicino, questo è, lo scheletrino, della vecchia edizione, e questo qua, è il vecchio guerriero, del caos, a cui poi, hanno cambiato il nome, nella nuova, perché non hanno più diritti, con la GV, quindi, non possono più usare il nome, guerriero del caos, che è questo qua, e nella nuova edizione, sono i dreadful, o dread warrior, qualcosa del genere, sono questi qua, e come vedete, lo stile è cambiato, sì, sembra un po', ricorda, però lo stile, è cambiato parecchio, per poi, andare, non vi faccio vedere gli eroi, e tutto quanto, tanto, ve le ricordate, ora me ne è capitato uno in mano, ma comunque, andando a farvi vedere, uno dei personaggi più iconici, che sceglieva poca gente, ma era uno dei più forti, il mago, la nuova miniatura, della nuova versione, e quella invece, vecchia, del vecchio gioco, della Milton Bradley, che vedete anche, a parte più grande, quest'altra, la posa è la stessa, le hanno cambiato il bastone, questo era un bastone classico, quest'altra invece, ha una mezzaluna, per poi, la parte che mi ha fatto più soffrire, una figura iconica, come il Fimir, che non hanno più i diritti, quindi ancora una volta, gli è stato chiesto esplicitamente, di cambiarlo, che era questa creatura, con la coda a palla, chiodata, che mi arrivava veramente, era a morire molto anni 80, tra l'altro, l'hanno cambiato con questi, che praticamente sono delle specie, di abitatori del profondo, che ricordano un po' dei Dagoniani, o delle cose del genere, non sono brutti, ma non ci stanno niente, niente, cioè non c'è neanche l'acqua, nei dungeon, parti sott'acqua, e cose del genere, quindi, fuori luogo completamente. In conclusione, per proprio parere personale, quindi, è quello che io provo, professionalmente o meno, però è quello che provo, con la nuova edizione, a pari merito di quella vecchia, allora, consiglio spensierato, se non avete mai giocato ad HeroQuest, e non trovate, e trovare la versione vecchia, è un problema, ormai, perché lo è veramente, poi chi ce l'ha? ora, ora, a parte hanno abbassato un po' la crista, perché con l'uscita di questo, lo vendono un po' a meno, ma prima, 200 euro, 300, no ragazzi, massimo, questo, questo, tenuto bene come il mio, il mio è tenuto bene, sì, è un po' rovinata la scatola, c'ha 30 anni, comunque, tenuto bene come il mio, non manca nemmeno un pezzo, costa come questo, 150, quindi, per me, parere spensierato, se proprio dovete spendere 150 euro, per me, se siete collezionisti, e gente più o meno della mia età, prendete questo, quello vecchio, a pari merito di prezzo, prendete quello vecchio, se avete un figlio, lo volete introdurre al gioco, volete fargli vedere delle belle miniature, e volete fargli vedere un gioco un pochino più fresco, più nuovo, presentarla a gente che HeroQuest non l'ho mai visto, magari ragazzi di 20 anni, 15 anni, 20 anni, non gli fate vedere un prodotto vecchio, 30, 40 anni, prendete quello nuovo, quindi questo, secondo me, se siete prettamente collezionisti, o se ci avete giocato da piccini, e poi è sparito, come nel mio caso, questo invece, se non avete mai giocato ad Hero, questo lo volete presentare ai più giovani, ora, sono contento di questa trasposizione, della Hasbro, 50 e 50, ho sentito commenti di gente, che dicano, senza fare nomi, hanno detto però anche altri recensori, come me, di giochi da tavolo, i giochi di ruolo hanno detto, eh, però mi aspettavo, delle regole aggiunte, ma anche una cavolatina, una regola in più, una missione in più, ragazzi, è HeroQuest, è, in termine videoludico, una remastered, di HeroQuest, quindi, che missione in più vuoi? che regola in più vuoi? io non le voglio, perché magari, sì, una missione in più, poteva essere bellina, ma se mi ci mettevano, 3-4 regole in più, me lo snaturavi, io ho voluto comprare HeroQuest, non ho voluto comprare, Advance di HeroQuest, o, un altro gioco, o Warhammer Quest, io volevo HeroQuest, quindi deve essere così, già se ci avessi trovato, che invece di tirare, due dadi, ne devi tirare, tre, e poi devi prendere, il migliore, i due migliori, e levarci, non ci avrei giocato, io voglio HeroQuest, perfetto, grazie Asbro, perché così doveva essere, a livello di contenuti, è veramente fatto bene, però ci sono delle cose, che non mi sono piaciute, la plastica troppo leggera, delle miniature, ragazzi veramente, prendi la spada del barbaro, prende vento, ma le miniature stesse, si piegano, c'è paura quasi a toccarle, e un'altra cosa, che non mi è piaciuta, però lì, non c'entra niente Asbro, c'è gli omini pesce, ho capito che avete tolto i Femir, che non li potevate tenere, metteteci qualcos'altro, tipo delle specie di koboldi, con la faccia da iena, oppure delle specie di mezzi lupi mannari, strani, pelosi, non ci andate a mettere degli abitatori del profondo, uomini cinghiale, con le zanne, qualcosa tipo i gamorreani, le guardie di Jabba di Hat, qualcosa del genere, c'è degli omini pesce, non c'è manco l'acqua, in questa ambientazione, c'è non è che c'è una mappa, che viene allagata, che viene o c'è un piccolo lago, questi uomini pesce, andavano bene, su Descent, su HeroQuest, non ci stanno niente, non sono brutte le miniature, sono belle, mi piace nel mio stile Lovecraft, che adoro, però non ci stanno niente, quindi a conti fatti, è questo, prezzo della scatola, troppo, troppo, e questo qui, 150 euro, no, anche perché le espansioni, ho visto che si trovano a 35-40 euro, esagerando le espansioni che sono molto più piccole, però, questo ragazzi, ma proprio a volervi bene, ne poteva costarne dai 50 agli 80, quindi, esagerando, se 50 è troppo poco, 80, ma esagerando, ragazzi, 150 no, cioè, non giustifica, dov'è il contenuto, di più di quest'altro, sì, tutta quanta la mobilia in plastica, per 150 euro, è troppo, e per questo, che vi dico a pari merito, se lo dovete presentare, a dei giovani, o chi non ci ha mai giocato, no, prendete questo, anche se trovate quest'altro, allo stesso prezzo, prendete quello nuovo, se, come me, avete 30-40 anni, avete giocato a quello vecchio, e volete una cosa più old school, no ragazzi, cioè, questo sembra zombie, sai, da livello di miniature, prendete questo, cioè, se li trovate dallo stesso, che te lo vende un pochino rovinato, a 150, e questo nuovo da negozio, a 150, per me, prendete quello vecchio, Hasbro, ovviamente, ha giustificato questo prezzo, per me, esorbitante, perché io te lo compravo a 150, sì, in Kickstarter con tutte le espansioni, non solo la scatola, però Hasbro ha, secondo me, avuto anche ragione, da una certa parte, perché hanno rifatto tutte le porte in 3D, ad esempio, più la mobilia, però porte aperte e porte chiuse, ce le hanno rifatte tutte, poi soprattutto i modelli 3D, rifatti completamente, quindi c'è stato anche un lavoro dietro, che hanno dovuto ridisegnare i modelli, perché non sono quelli nuovi rifatti, sono proprio nuovi, cioè quelli vecchi rifatti, sono proprio rifatti completamente da zero, quindi modellazione 3D anche, l'hanno proprio rifatto il gioco, ecco, forse, forse, a questo punto, hai rifatto tutto, perché hai rifatto le porte, le miniature, anche i dadi, che cioè, non ce n'era bisogno, perché già quelli vecchi, andavano bene, hai rifatto tutto, e il tabellone è lo stesso, ora, il tabellone, ok, che però, magari è un po' più disegnato, un po' più strano, sempre uguale, la mappa uguale, non mi cambiana, una mattonella del dungeon, perché mi sento male, però, hai cambiato tutto, il tabellone lo lascivelo lì, quindi ci ho visto qualcosa di strano, quindi a conti fatti, secondo me, è una, una remaster ed un remake, al 50%, perché, come mia valutazione personale, ve l'ho detto, a chi lo consiglio questo, e a chi lo consiglio quest'altro, ma, in tutti e due i casi, questo al tempo costava, 50 mila lire, ma ripeto Massimo, se ve lo vendevano a sovrapprezzo, ne costava 35, 40, 150, no, 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 punto esclamativo, 150 te li do con tutte le espansioni, a voglia, tieni, 200, ma con tutte le espansioni, 150 solo questo, no, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente fatemelo sapere con un commento, se lo volete ordinare, link in descrizione, e in sovraimpressione, come sempre, dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor, al miglior prezzo sul mercato, l'avete visto in versione inglese, ce l'ha in versione italiana, e ricordatevi di usare sempre, il codice discount, Coridan7, per avere uno sconto del 7%, andate sul sito, è finito, non c'ha più copie, oppure, io Coridan l'ho cercato, ma non c'è, scrivete al supporto a Corrado, al proprietario dello Gioco Libreria Semola, e fatevi presente che arrivate dal mio canale, lui farà il possibile, per farvela avere al miglior prezzo sul mercato, e oltretutto, per spese superiori ai 79 euro, vi arriva a casa, con spese gratuite, a Corriere Gratuito, anche fuori, anche in Europa, in 48 ore ordinate, vi arriva, anzi a volte arriva anche in 24, ordinate il giorno dopo ce l'avete, se fate l'ordine presto in mattina, quindi comunque, è un buon servizio, è in ferie, fino al 16 o 17, comunque poi, tornerà a mandare ordine, tutto quanto, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, e ve l'ho detto, per me, è un remake del vecchio gioco, riuscito soltanto a metà, invece nel prezzo, 0, meno 1, ciao ragazzi, alla prossima!